Buongiorno gente, il FOAM, Swalking Man, Sarega in giro, ci siamo tutti! Festa Biker, è un evento spettacolo, c'è il mondo, il tempo accompagna, non è male, sta tutto bene, non c'è una nuvola, quindi più di così, perfetto, facciamo un giro in mezzo al mondo di gente, veramente, cerchiamo, perfetto, ok, c'è veramente il mondo, facciamo due passi, in mezzo al macello, veramente, c'è una catarpa di moto e gente, veramente, poi il tempo, come nuvole a zero, questa è la via principale, dove ci sono tutti gli stand, e c'è veramente il caos, mentre l'idea sera è peggio ancora, mi hanno detto, però comunque, vado veloce per non, fare da video palloso, allora cerco di andare un po' veloce, perché se no, c'è veramente una catarpa di gente, tutti i tipi, palloncini anche, vado veloce, però purtroppo c'è un sacco di roba da vedere, quindi, automaticamente, anche ragazzini, eh, con le moto, qua veramente, il mondo bike, che rivolge a tutti, moto, macchine, c'è di tutto, ragazzini, stiamo avanti, stiamo avanti, marea di stand, ce ne sono veramente tante di stand, tantissime, tutti i tipi, classici, soliti, sto andando, velocità altissima, eh, Ducati, c'è anche educati, facciamo un giro in mezzo ai Customizer, che sono all'inizio dell'evento, qua è l'area dedicata al spettacolo Pin Up per stasera, e ai costruttori, i Customizer, facciamo un giro, che un po' di gente la conosciamo, però, c'è veramente una valanga di gente, molto ovunque, eh, fa il mitico Frank, 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 Nervo TV, fai un ciao a Robi, fai un ciao a Robi, uno dice Laura, uno dice Laura, e io, no, e lui, ciao, è sempre la stessa persona di un uomo, sei l'area, Laura, è sempre lei, c'è un cazzo di... già capito, ciao a Frank, ciao, Mitico Frank, Mitico Frank è veramente il mondo del... il numero uno Nervo TV, diretta, di qualcosa, un bel fanculo, vai, ha 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 72 merdi spettacolo che li fa copiare nei te? da fire ascolta sei in diretta quindi vai, best mentre pi! pi! perfetto hai giusto, aspetta quella lì, voglio... voglio specie di spettacolo vecchi spettacolo ha trovato l'altro, fanno male capito, perché ci si ascava queste cose ma so che fai lì oh il pelù, sei in diretta a NeroTV, di qualcosa dai oh mamma, mi perdonami, sono con tutta gente viva la patata, viva la veloce grande e poi, comunque sia, non sei su NeroTV e poi non ti guardo ragazzi, tanta roba, anche la moto piatta, molto sai quale? è un po' semiale l'ho già ripresa allora, spiega un po' cos'è vieni un po', vieni, vieni vieni, spiega questa qua è una delica a Renness e a Randy Smith, tra grandi personaggi del Castor il motore è un magnum cioè un incrocio tra un trattene e un aero del che abbiamo fatto gli esenziali della Luaio e poi l'abbiamo ispirato un po' a Barbarone, al lago Salato è una moto percorrere abbiamo costruito interamente il motore per divertimento, per passione spettacolo, veramente l'ho già vista prima grande, spettacolo, bravo grazie mille l'uomo che brucia le gomme? solo che gonfia le gomme brucia o gonfia? non lo so e lei? qui parla della barba? ma sono anche veri solo che non vengono fuori ma come vengono fuori? sono bloccati dentro per la sicurezza ma dai se no lo arrestano, potrei ma zio fa e il bello del... facciamo un giro nel movimento adesso oh no! diretta a nero tv stai in diretta di qualcosa di qualcosa ok va bene oh no! te la ricordi? mi dai vai in giro mi l'acqua mi è venuto oh no te la ricordi? meita mi è venuto mi è venuto maCKK mi ha preso un osper ho vicini una migliore i megniti missichiamo mi ha preso ah giusto per non dimenticarsi chi sta guardando mi raccomando fatto in anticipo ricordatevi 19, 20, 21 giugno American Day mi raccomando lo so che sono però ram franniciato spettacolo grezzo fatto grezzo a manetta bellissimo siamo con un giro in mezzo movimento sempre moto 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 posso far vedere quante ce ne sono veramente il mondo c'è il mondo in mezzo la gente sempre stand stand moto moto stand moto sempre molto veloce ci do secco perché sennò veramente diventa una palla allora cerco di movimentare via i liasi di Cremolla ci sono c'è veramente un facco di gente per essere prestissimo c'è il mondo già musica c'è anche uno su un palo magari dico sotto riesco a beccarla magari sei in diretta allora le ragazze fanno un break le ragazze della Freaky Ball fanno un break facciamo gli un applauso e ripresa l'anno tra mezz'oretta ma che meno quindi mi raccomando se volete chiedere informazioni a mezz'oretta a mezz'oretta della Freaky Ball a tre palestre dalla mezz'oretta con un uomo con Martin Edwards sono a terra di nuovi corsi vanno sia per le donne che per gli uomini ma anche per la famiglia insomma quindi mi raccomando benvenuti a questa macchina tanta roba spettacolo finito peccato tanta roba va facciamo un giro va metti sempre i peccabili 300 spettacolari molto sempre una valanga la manetta chido secco adesso se vecchio la moglie la strega che qua in giro magari c'è veramente una caterpa di gente wow filo in mezzo olle chi è costui? chi è costui? ma come? ma sei anonimo o di o fa o di o fa ovi niente poi ti spiego ragazzo una giovanetta ha beccato la moglie moglie io sono in diretta è pronto guarda qua Rito che è pronto siamo in diretta oh oh guarda guarda hai anche tu ahahahah 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 ma è un po' ma è un po' non è un po' apritevi, apritevi, confessionale, 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 perfetto, benissimo, va bene gente, adesso chiudo la diretta psicopatica, più tardi magari farò cos'altro e va bene, ok? Ciao gente, qua nel ROTV, sempre in giro, ciao gente, a dopo, ciao! Ciao!